Stop, stop virus, virus, stop, 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 virus, oh, kick it now, virus, stop Mi soffro sempre in qualcosa di romantico, faccio diventare tutto, ogni cosa che tocco e che sento in qualcosa di romantico Virus, ti è venuto a trovare l'anonimo paresse? Mo che cosmo, mo che movimenti dell'urici, se vuoi l'analgesico te lo do dopo dopo, sempre se continuo e giuco giuco Arriviamo a noi, cercavo, cercavo, solo lettere, lo ripeto, lo vorrei ribadire, mandate qualche cartolina, non c'ho più filtri Comunque continuiamo, entriamo sempre nell'amore perché vogliamo sempre trattare il nostro amore, vogliamo rispondere al tesoro, al nostro io, al cuore che batte e fa tuk tuk Entriamo nella prima lettera, che dice così, caro Franco, sono un allenatore di calcio di 24 anni, con i miei ragazzi uso la tattica 4-4-2 in casa e il 3-5-2 in trasferta Non riesco ad attuare la tua tattica infallibile, cioè il da-do-a-da e da-da-do Mi svegli il segreto? Oh mio caro giovane allenatore di 24 anni, è molto semplice, la tattica da 2-a-da e da-da-do è molto elementare Il segreto sta nel non fumare prima e dopo la partita, ma fumare durante la partita Se la tua squadra va sotto di un gol, sostieni il contrario, sostieni il contrario Se la tua squadra va sotto di 2 gol, tu da buon allenatore, sostieni il contrario Se va sotto di 3 gol, tu da buon allenatore, fai inginocchiare tutti i giocatori e gli fai fumare tutta l'erba del prato Se va sotto di 15 gol, se la differenza reti supera i 15 gol, mio caro giovane allenatore Ti consiglio di abrogarti e di vitalizzare il tuo io Concludo con un piccolo PS, un piccolo postritum Vi lancio il mio e-mail Mi mandate qualcosa, qualcosa?